ok e cos'altro mi servirà le scarpe le scarpe col tacco alto giusto le scarpe l'ombretto il rossetto il profumo tutto qua mi sa che sono pronta ciao barbie dove vai in vacanza no maria ma che dici io vado nella natura vorrei creare la mia propria azienda agricola ma sei sicura di aver preso tutte le cose necessarie sì sì maria non ti preoccupare ok allora aspettiamo le tue foto ciao i miei cari followers oggi con voi andiamo a creare la nostra azienda agricola guardate qui ci sono gli alberi le montagne ho trovato qualcosa di interessante guardate ho trovato un grosso alveare è la casetta delle api aia mi ha appunto un'ape non ce la farò più a girare il video con la mano sinistra guardate queste pietre qui possiamo piantare cosa piantiamo le carote salve buongiorno vorrei ordinare delle carote sì 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 grazie sì aspetto allora i miei cari followers cosa facciamo nel frattempo o qualcuno ha lasciato la legna facciamo il fuoco uffa non è facile vivere nella natura ma come accendiamo il fuoco allora magari ci sono qua i fiammiferi tante cose inutili ecco le vostre carote ah sì grazie le volevo piantare piantare qua ok venga grazie e adesso insieme a voi piantiamo le carote così così che bell'orto che ho uffa i miei cari followers ho lavorato bene e adesso posso riposarmi a prendere il sole uffa è cominciato a piovere devo nascondermi uffa mi nasconderò qui uffa è terribile mi fa male la mano piove le carote non crescono non riesco ad accendere il fuoco uffa è terribile mi fa male la mano piove le carote non riesco ad accendere il fuoco uffa è terribile mi fa male la mano perché mi ha puntolato uffa è terribile mi fa male la mano piove le carote non riesco ad accendere il fuoco uffa è terribile mi fa male la mano piove le carote non riesco ad accendere il fuoco uffa è terribile mi fa male la mano piove le carote non riesco ad accendere il fuoco uffa è terribile mi fa male la mano piove le carote uffa è terribile mi fa male la mano piove le carote ci vediamo quando le carote cresceranno e con voi ragazzi ci vediamo molto presto nel prossimo episodio ciao ciao ciao